I fattori che influiscono molto sono sui prezzi, questo è quanto. Hai notato un aumento dei prezzi? Ho notato un aumento dei prezzi, specialmente su un settore, in particolare delle verdure, frutta e verdura c'è stato un incremento, questo sì, l'ho notato. Ci sono dei prodotti per i quali sei disposto a spendere di più? Sì, ci sono dei prodotti a cui fare molta più attenzione all'acquisto. Durante la crisi, a causa della crisi, sono cambiate le tue abitudini di consumo oppure sei riuscito a prendere lo stesso stile di primo? Sì, diciamo che un pochino è cambiato, non fortemente, però c'è stato uno spostamento del lago della bilancia, sì, un pochino sì. Hai fatto più o meno acquisti online? Ho fatto acquisti online, sì, specialmente durante quel periodo, la prima parte della pandemia, qualche acquisto l'ho fatto, sì. Sai che cos'è il consumo critico? Non so che cos'è il consumo critico. Ti tieni di poter influenzare il mercato alimentare con le tue scelte di acquisto? Non credo, cioè non credo di influenzare le scelte di mercato riguardo ai miei tipi di acquisti in generale. Ok, grazie mille. Ok, grazie mille.